Buongiorno da Occhio Bello Media. Ricordatevi di preparare tutti i documenti che servono per fare l'ISE 2024. Cosa serve? Serve la carta d'identità della persona che fa la richiesta? Servono i codici fiscali o la tessera sanitaria dei familiari? Cosa serve altro? Serve l'affitto? Serve il 730 se l'avete fatto? Oppure la certificazione unica riferimento anno 2022 che una volta si chiamava CUD, sempre riferimento 2022? Serve la targa della vostra auto e poi servono altri documenti, la giacenza media dell'anno 2022 e il saldo dell'anno 2022. Se avete bisogno e avete altre domande scrivetemi nei commenti. Ciao da Occhio Bello Media. Ciao!